L'autunno del benessere arriva anche in estetica. Acquistando un estratto antiossidante per la bellezza della tua pelle o uno snellente contro gli inestetismi della cellulite, ne avrai subito uno in omaggio. Trova questa offerta e le nuovissime maschere idrogel nei centri in Tisanoreica e nei centri estetici su tisanoreica.com I prodotti di Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore Salucci, pasta fresca artigianale A Casinina di Auditore vicino d'Urbino, per info 0722 362635 Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali Arresta la calvizie e vi addio ai tutti i problemi di cuoio capelluto con gli raggi infrarossi e prodotti specifici La botteglia del barbiere e il stylist Alberto a Casinina di Auditore In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20 e 30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16 e 30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita dedicato a tutti gli ammalati sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità informazioni al 335 80 94 107 visite il sito www.amoreperilsignore.com Grazie 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 Senti silenzio. 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 Senti silenzio.